Giustizia Bene Comune Spazio in collaborazione con Feder Consumatori Rimini Realizzato nell'ambito del Programma Generale di Intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico Ed eccoci qua con l'appuntamento Giustizia Bene Comune il nostro appuntamento fisso ormai della giovedì realizzato in collaborazione con la Feder Consumatori di Rimini oggi un argomento che starà a cuore a molti compreso il qui presente parliamo delle problematiche con i gestori della telefonia lo facciamo con l'Avvocato Eleonora Pinna buongiorno buongiorno Eleonora insomma un argomento che in altre trasmissioni abbiamo affrontato spesso purtroppo ce n'è sempre tanto da dire queste telefonate che arrivano ad ogni minuto con offerte o pseudotali di gestori se sei con uno ti chiama l'altro alle volte capita anche che ti chiami il tuo stesso gestore per farti delle offerte tu dici ma sono già con voi ah sì insomma è difficile districarsi in quella che molte volte abbiamo definito una giungla assolutamente sì perché soprattutto chiamano sempre agli orari o di pranzo o di cena quando le persone in realtà sono concentrate su altro e fanno queste grandi proposte quindi innanzitutto spesso non sanno con che operatore sei quindi come dicevi tu ti chiama il tuo stesso e poi dopo dice vabbè ti faccio un'altra offerta e non si capisce bene neanche che tipo di offerta sia oppure altri operatori propongono un cambio e quello che spesso le persone non capiscono non sanno è che già quando vengono forniti i dati personali e autorizzazione a voce quindi espressione di manifestazione di volontà si conclude un contratto perché non c'è bisogno per questi tipi di contratti necessariamente della forma scritta quindi insomma bisogna stare molto attenti a quello che si dice quando si al telefono poi iniziano a chiedere sì mi può dare anche i suoi estremi mi guarda la bolletta quindi lì bisogna iniziare a drizzare le orecchie subito perché quando si cominciano a dare codici fiscali nome, cognome, residenza e dati della bolletta soprattutto il codice di migrazione che è inserito all'interno della bolletta lì il contratto fondamentalmente è quasi fatto codice di migrazione quindi è quello che serve per migrare da una compagnia all'altra magari non tutti conoscono ma specie poi le persone di una certa età che magari vedono questi numeri li leggono e gli dicono mi legga quello che c'è scritto lì in alto mi legga quello che c'è scritto in alto a sinistra dove di solito è collocato così io lo inserisco nella mia banca dati in realtà poi quello è uno degli elementi essenziali per poter portare alla stipulazione del contratto quindi in alto a sinistra c'è il codice di migrazione è già una cosa da assegnarsi in fondo a destra è il bagno di solito in alto a sinistra invece c'è il codice di migrazione contratti a distanza quindi in sostanza come si può quando si conclude un contratto di questo tipo magari uno non se ne rende conto poi capisce di aver fatto uno sbaglio cosa può fare? innanzitutto può esercitare quello che si chiama diritto di recesso cioè il cosiddetto diritto di ripensamento il codice del consumo nei contratti a distanza cioè in quei contratti stipulati non con la contemporanea presenza di consumatore professionista prevede la possibilità di cambiare idea entro 14 giorni dal momento in cui si è stipulato il contratto quindi il tempo è aumentato con le ultime novità del codice del consumo perché prima era inferiore adesso è diventato di 14 giorni dal momento della stipula però e questo è importante cioè dal momento in cui si fa la telefonata quindi parte da quel momento parte da quel momento lì non da quando vengono inviati eventuali documenti non da quando vengono inviati eventuali documenti se al telefono è stato dato l'informazione in materia di diritto di recesso se invece questa informazione non è stata data allora decorrono da quando arrivano i documenti con l'informativa se addirittura non arrivano i documenti non arriva l'informazione c'è addirittura un anno per esercitare il diritto di recesso quindi è importante insomma una tempistica ben definita altri casi che alle volte capita di sentire sono quelli in cui l'operatore telefonico dice ma il tal giorno abbiamo un nostro addetto che è proprio nella sua zona possiamo farlo venire da lei così magari fate due chiacchiere altro campanello d'allarme? decisamente sì diciamo che in questo caso il campanello d'allarme forse può suonare un po' meno nel senso che se l'esperto viene a casa però non si firma nulla lì il contratto non viene stipulato quindi è un po' più semplice accorgersi di che cosa si va a contrattare a stipulare perché è un contratto che si chiama fuori dai locali commerciali ma che per essere stipulato ha bisogno della firma e quindi lì c'è un cartaceo diventa più canonico sì qua almeno per quanto riguarda fin qui il momento in cui si conclude il contratto e come muoversi di conseguenza capita anche che uno abbia il suo gestore però ci siano dei numeri delle fatture che non coincidono magari anche con l'offerta che è stata fatta perché spesso insomma ci sono le civette che gli dicono 20 euro al mese internet telefonia poi ti trovi la bolletta che non è propriamente quella come ci si deve comportare? assolutamente sì innanzitutto è importante che le condizioni contrattuali vengano scritte quindi richiedere sempre il contratto anche se si è stipulato per telefono dove ci devono essere scritte le tariffe dopodiché se in bolletta ci sono somme non dovute non riconosciute l'importante è fare sempre un pagamento parziale della bolletta contestata perché se non si paga del tutto la bolletta e se ne contesta soltanto una parte si rischia di incorrere nella sospensione della linea quindi bisogna fare un pagamento parziale andando alle poste prendendo uno dei bollettini semplicemente in bianco e compilandoli con gli estremi dopodiché si contesta quella che è la somma che non si ritiene giusta quindi si paga quello che è giusto non si paga quello che non è giusto comunque bisogna sempre in qualche modo pagare quantomeno quello che si riteneva di dover pagare per evitare di incorrere la sospensione della linea capita anche di avere quando si concludono questi contratti a distanza che magari le cose non filino per il verso giusto e uno si trovi con due operatori quindi dovrà pagare a due gestori diversi sì, succede spesso perché quando si migra da un gestore all'altro a volte adducendo motivi tecnici in realtà inesistenti il primo gestore o non rilascia e quindi non permette al secondo gestore di inserirsi o addirittura rilascia ma continua ad emettere bollette perché ritiene che il rapporto sussista ovviamente in questo caso bisogna pagare una sola bolletta quindi non due contestare quella che non è dovuta anche in questo caso ci arriva un sms da parte di un telespettatore dell'ascoltatore che insomma conferma quello che poi abbiamo detto mi stressano ogni giorno sempre gli stessi come faccio a bloccarli spesso se li interrompo si arrabbiano pure allora in realtà era stato istituito è istituito un registro dove iscrivendosi si doveva poter bloccare questi gestori che contattano continuamente purtroppo abbiamo appurato che non funziona quindi anche se il consumatore è correttamente iscritto continuano a telefonare e per cui dal punto di vista giuridico in realtà purtroppo lo strumento è stato ideato ma non funziona quello che si può fare è semplicemente ribadire che non si vuole più essere contattati al telefono e chiedere di essere inseriti in queste liste dove non ci si deve insomma non devono più scocciarci abbiamo parlato di alcuni problemi che ci possono essere con i gestori telefonici abbiamo detto ad esempio chi si può trovare a pagare due bollette con due gestori diversi però ci sono anche altri problemi all'esempio dovrebbe essere garantito il mantenimento del numero la continuità del numero sia cellulare che fisso però alcune volte capita che le cose non vadano proprio in questo modo e poi ci sono magari dimmi tu quali sono le problematiche anche più diffuse sul territorio questo sicuramente quando c'è un passaggio da un operatore all'altro a volte purtroppo si perde il numero ed è ovviamente un danno soprattutto se pensiamo alle piccole aziende perché oltre che il consumatore persona fisica ci sono anche le aziende che svolgono con quel numero attività commerciale quindi non riescono più ad essere contattati o a contrario vengono magari persi i numeri di persone fisiche che ce l'avevano da 30 anni in questo caso dal punto di vista tecnico è molto difficile riuscire a ottenere il numero perché quando un numero viene perso la compagnia di solito lo riassegna subito e quindi è molto difficile riuscire ad averlo però sono previsti degli indennizi e l'autorità garante per le telecomunicazioni prevede che nel caso di perdita del numero telefonico il gestore telefonico che è stato causa di questa perdita corrisponde dell'indenizzo al consumatore bisogna chiederli bisogna andare in sede di conciliazione però se c'è la perdita del numero vengono riconosciuti parlato di sede di conciliazione allora spieghiamo un po' come funziona questo step per poter arrivare ad avere giustizia si può riuscire ad avere abbastanza soddisfazione nei confronti delle compagnie telefoniche adendo il Corecom cioè l'autorità garante per le telecomunicazioni che ha sede a Bologna però a Rimini è possibile fare le udienze in videoconferenza presso la sede del comune quindi molto facile e non ha costi vivi il consumatore deve semplicemente inviare un modulo che è presente sul sito del Corecom dove si chiede di convocare una udienza di conciliazione lì ci si trova consumatore rappresentante della compagnia telefonica e il conciliatore e si cerca di mettersi d'accordo ecco spesso si dice che con queste compagnie è difficile raffrontarsi è difficile anche contattarle come questi famosi call center le cose sono ancora così stanno migliorando ci sono alcuni che sono un pochino più complicati altri meno allora diciamo che per il consumatore medio non è cambiato nulla nella possibilità di contattare ci sono sempre i call center con spesso persone che fanno anche fatica a dare delle risposte noi come associazione dei consumatori invece abbiamo con alcune compagnie telefoniche dei canali preferenziali quindi con alcune riusciamo ad avere dei contatti diretti cioè con dei responsabili che non sono gli operatori telefonici e che ci danno spesso delle risposte molto più velocemente più concrete il roaming questa bellissima parola con la quale bisogna avere a che fare in alcuni in alcuni ambiti della propria vita che spesso però dà dei problemi ecco spieghiamone grossi sì perché molto spesso quando si va all'estero e quindi si utilizza il telefono anche senza l'utilizzo consapevole da parte del consumatore perché il roaming molto spesso si attiva senza alcuna attività volontaria si torna a casa e si ricevono delle bollette altissime ma da migliaia di euro cioè noi in federal consumatori sono arrivate persone con bollette di 5.000 6.000 7.000 euro addirittura quindi insomma importi molto alti è previsto espressamente che le compagnie telefoniche invino al consumatore un messaggio o un'email se recapito dato l'email dove si fa espressamente riferimento al superamento del limite soglia previsto dal contratto che il consumatore ha quindi se il consumatore ha un contratto a consumo o se ha un contratto con un plafond massimo di minuti o di spendita diciamo economica la compagnia telefonica lo deve avvisare gli deve dire alert attento stai superando quindi vedi tu cosa vuoi fare o addirittura bloccare la possibilità di effettuare queste chiamate se non lo fa quindi è diciamo colpa tra virgolette della compagnia quindi ne dovrà in qualche modo rispondere certo il consumatore potrà non pagare queste somme ovviamente sempre insaurando un reclamo e poi molto probabilmente andando in conciliazione perché solitamente con il roaming non sempre con un primo reclamo si riesce a risolvere poi in conciliazione invece molto spesso poi si arriva a quello che la compagnia deve fare cioè non far pagare quelle somme perché non ha avvisato sono capitati casi eclatanti prima hai parlato di persone che sono arrivate con queste bollette da 5-6 mila euro insomma ti è capitato sotto mano ad avere qualche caso in età accidenti sì molti e soprattutto per le aziende ad esempio cioè aziende che si sono trovate addirittura per un anno senza riuscire ad avere la linea telefonica e quindi due compagnie telefoniche che ovviamente si rimpallano la responsabilità non si riesce a capire il guasto tecnico quale sia e quindi società che non hanno il servizio qui sappiamo che come dire il danno è molto grosso per alcune siamo anche in causa quindi comunque quando non si riesce tramite conciliazione a ottenere quanto si si chiede lo step successivo è quello di andare all'autorità giudiziaria perché ovviamente poi se la compagnia telefonica soprattutto per somme così alte quando ci sono anche richieste di risarcimento danni che in conciliazione non vengono liquidate e ovviamente bisogna dire l'autorità giudiziaria insomma costi di disattivazione quando si passa da una compagnia ad un'altra qualcuno ti dice però però se tu passi va bene però devi pagare però paghi non si sa quanto paghi con quelli nuovi paghi con noi esatto in realtà il paghi deve essere ben calibrato cioè nel contratto che il consumatore sottoscrive deve essere indicato qual è il costo di disattivazione e l'autorità garante per le telecomunicazioni ha comunque stabilito che a seguito di tutta la riforma introdotta con la cosiddetta legge Versani al consumatore non possono essere chiesti dei costi a prescindere di disattivazione ma soltanto quelli che sono i costi vivi sostenuti dalla compagnia telefonica perfetto abbiamo altri messaggi c'è qualcosa no la gente è evidentemente soddisfatta a parte quell'ascoltatore stressato dalle telefonate che non è l'unico abbiamo detto appunto il problema con i gestori è anche quello relativo ai call center a quelli che ci contattano perché sempre più spesso si ha a che fare sempre quasi con dei nastri registrati perché non riesci a interrompere queste persone provi a spiegare non riesci spesso non sono neanche italiane se non parli non è anche bene la nostra lingua quindi è molto difficile è anche diciamo sembra di sbattere la testa contro un muro il consumatore ha sempre quelle telefonate ma non riesce a spiegarsi sul tema dei call center siete riusciti in qualche modo come associazione dei consumatori a cercare di far sentire la vostra voce perché so che è un tema importante è un tema molto caldo e come associazione dei consumatori noi in realtà stiamo cercando di soprattutto aumentare questi canali di riferimento che noi abbiamo come associazioni nei confronti delle compagnie telefoniche agire direttamente sul call center ovviamente è molto più difficile perché sono pratiche commerciali che le compagnie scelgono su cui un'associazione dei consumatori fa più fatica ad inserirsi quindi la soluzione è come dire avere un contatto diretto in modo da bypassare completamente il call center quindi le persone devono sapere che in realtà più che rivolgersi con mille reclami telefonici al call center è molto meglio muoversi prima fare un reclamo scritto eventualmente rivolgersi a delle associazioni che permettono una tutela più diretta attraverso canali che sono comunque preferenziali anche perché spesso capita poi di involgere le proprie rimostranze nei confronti di persone che rispondono ai call center poi richiamare la volta successiva e dover rispiegare tutto da capo quindi è un muro di gomma è una situazione dalla quale non si esce sono tutti diversi persone diverse che interloquiscono soltanto avendo un computer davanti e quindi vedono la schermata ma non sanno cosa c'è dietro il rapporto che c'è dietro quindi insomma in realtà anche ostinarsi chiamando in continuazione il call center è un po' controproducente diciamo che il consiglio è rivolgersi a un'associazione che magari ha canali diretti o fare un reclamo iniziale anche tramite fax e poi dopo muoversi insomma però perfetto 10 e 24 minuti noi abbiamo sperato speriamo di aver dato dei consigli utili a chi ci segue da casa anche perché insomma questo è un problema decisamente quotidiano per molti di noi io ringrazio l'avvocato Eleonora Pinna per averci spiegato come muoverci in caso di problematiche con i gestori della telefonia sicuramente non finiranno i problemi oggi ma almeno sapete come muovervi in caso capiti qualcosa l'appuntamento con Giustizia Bene Comune insieme alla Feder Consumatori torna il prossimo giovedì io volevo ricordarvi però che dopo di noi per chi ci segue in radio c'è Faccio Cose Vedo Gente che domani tra l'altro avrà quello che si chiama un ospitone direttamente da X Factor Angel con la sua band è stato eliminato poco prima dei live e sarà qui in studio a suonare e tra l'altro commenterà anche l'esito della puntata di questa sera dove sono ancora impegnati i riminesi e i landlord noi ci fermiamo qui l'appuntamento con tempo reale invece è domani mattina Giustizia Bene Comune spazio in collaborazione con Feder Consumatori Rimini